Musica 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 Non lo so, ciò è una cosa, Franci Ha dici che finalmente ti sei sposato Eeeeeee E lui è più esperto E lui è desasata E lui è più esperto Mi sono stati lasciati Che cosa Che snarare Che snarare Che snarare Che snarare Franci Vi Mi sono stati Franci è stato un gioco e questo è stato un gioco e questo è stato un gioco eeeyyy Luigi è sposato Luigi è sposato Luigi è sposato sui non lo so non lo so è una gratta la gombare è la gombara a te gomba a te gomba a 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 luigi guarda qua i commenti sono stati proprio tanti in questi giorni quindi penso che non hai fatto una buona cosa la vedi la busta la puoi scordò la bella non frate di voi perché insomma ha portato noi non l'abbiamo fatta fatta il meno anni abbiamo subito e capisci a me auguri luigi ciao 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 Nooo! Sta rosita! Dandelo pure a voi! E' un grosito! Non ho fatto un busto! Deficito! Deficito! E' un grosito! E' un grosito! Ciao, ci siamo noi! Che c'è Jay? Una cesta da partendo? Non vuoi gli sposi? Tanti auguri! Auguri! Luigi e Patrizia Luigi e Patrizia Noi siamo, non ripeterevelo Siamo molto felici del vostro matrimonio e spero che vi aspetto una vita tranquilla serena e auguri! Tanti auguri da papà e mamma da 100 anni da Patrizia e Luigi è la giornata più bella della tua vita Godetevela! Godetevi questi giorni che non tardano più Auguroni Luigi e Patrizia per questo bellissimo giorno e vi auguro tanta felicità Auguri ragazzi! Auguri un bacio! Auguroni! Tanti auguri! Auguri di sposi! Posso? Degli dobbiamo dire qualcosa a loro no? Dicci quello che pensi di loro! Vi vogliamo bene e spero che questa giornata sarà unica per voi Ciao! Tanti auguri! Tanti auguri! Che diciamo a Patrizia e Luigi? Patrizia, Luigi, tantissimi auguri! Sintetica essenziale Sintetica essenziale Oggi inizia un nuovo percorso insieme vi auguriamo con tutto il cuore e tanta tanta felicità per chi ve lo meditate Un bacione! Ciao! Ciao ciao! Ciao! Aspetta noi Questo è il confezionato che non è del fratello Vedi? Uno, due, tre Auguri a voi! Auguri! Ti sei rovinato? Ciao! Come siete? Come siete? Allora Come vuoi? Non lo so E' primavera messaggio la figliura Lui? Eh! Patrizia ti ha già fatto tutto fino a ora Auguri a mamma! Tanti auguroni! E tanta felicità Abbiamo fatto una grande giornata Fino adesso Eri bellissima stamattina Goditi questa giornata Ehm... Che la vita ti deve dare tutto quello che il tuo cuore desidera Ancora di più ti dico io Te lo darà Andiamo a guardare Patrizia Quando venite stasera Tu vuoi provare il tuo cuore desideri Dove fare il tuo cuore desideri La porca Mi prendete punto e mi vado andare al tuo cuore Te le faccio fare troppo un cuore desideri E poi... Tu hai fatto pure il mio cuore desiderio Andiamo a guardare il tuo cuore desideretto E' primavera che si riv悉are che faccio così per all'anno che bello Ambrose Ambrose non ho i maschi, preferibilmente i maschi ciao infatti ti faccio tanti auguri e che la vita ti fa sempre andiamo a guardare bene cose va bene auguri Patti auguri sposi se ce l'abbiamo fatta noi Luigi contoglianze tante contoglianze perché oggi è un giorno triste Luigi Luigi Patrizia Patrizia dice sempre che si, poi fa sempre a capa dove Patrizia ci stanno auguri ragazzi auguri, felicità, salute Luigi sono emozionata ti faccio tantissimi auguri a te e Patrizia e non potevi trovare una sposa migliore e tu sei un bravissimo ragazzo e meriti tutto sono emozionata augurissima Luigi ma tu è un'opera? abbiamo fame dai 600 km e tu non ancora ci fai mangiare amore vediamo comunque auguri 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 sbrigati piace come questo ciao 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 ragazzi volevo fare una dedica per concetto ai quartieri e niente perché papà fra poco sei mesi uscirà da galera ad una presta libertà per una presta libertà hai un abbraccio circolare un abbraccio circolare no, fatti ci fai giù mia mamma come sta? come sta? i bambini me li saluti per favore ciao Alessia grande fratello le sigarette, il tuo cazzo santo comunque Luigi un abbraccio circolare da tutta la comunità montana prealpina, prealpina, prealpina I love you we love you buongiorno Luigi buongiorno cara Patrizia io vorrei dire prima di tutto vi auguro una grandissima felicità con tanto amore con tutto il mio cuore vi auguro una cosa grandissima che nessuno può avere abbiamo finito con questo libro o cattivo ma faccio stammatrice sei la cosa che mi dispiace molto di più è che te ne vai non ci sarei più nella casa cosa devo dirti? la cosa positiva è che non mi darei più fastidio è negativa che mi mancherai? tanti bacioni e fate grandi cose insieme insieme ciao ciao ma guarda qua qua ragazzi guarda mamma ciao Patrizia tantissimi auguri di un felice matrimonio Luigi ti è inguaiato ti è inguaiato ciao 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 vita battito sei il mio batt Patrizia Luigi sei top top di una zia pazza pazza pazzarella oi aprite un bel lavoro che cazzo auguri 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 tanti figli i primi due gemelli ciao vita mua 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 Patrizia tanti auguri vi auguriamo il meglio lui ti è inguaiato tantissimi auguri Alessia è stata una scelta difficile per me ci ha ricevuto Alessia Barbara pure tu chi sono che conduci tu vabbè Alessia Barbara ti tirate quanti ti voglio bene e ti nasce a giocare è inguaiato è inguaiato saluta signorino facciamo fare persone saluta signorino è stata una scelta difficile a signorina saluta guarda è inguaiato ti fai tu con signorino è inguaiato ti nomino queste quattro persone devono uscire fuori dalla casa ti vuoi arrivare in finale con tua moglie o con noi con chi vuoi arrivare a ricevere donne solito concordo solito io che l'ho avuto solito questi sono inguaiati che mi sono rovinati ricordi che c'è 37 bis comadre 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 oggi non mi ha capito una legge che ha detto che c'è perché devono scegliere perché devono scegliere perché dovresti vincere tu il pubblico può scegliere me come vincitore perché ho bisogno di soldi cosa faresti con questi soldi? io farei una grande cosa io frasi frasi la 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 ciao ciao tutto a posto frate voglio dire che questa cosa è per un fatto di si pagate l'estate per nominare io aspetta vorrei nominare io Gaidano e Pasquale non tu Pasquale oh mamma Pasquale è io Pasquale è io attaccati fino a me attaccati fino a me io ho l'attacco ai figli se voglio far capito non lo so lui è Pasquale io sono Pasquale quindi Pasquale è quadrato Pasquale è Gaidano Pasquale è Gaidano Pasquale 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 abbiamo fatto scopo quando facciamo Pasquale 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 è Gaidano ma Vinitus siamo tutti in un'inizio ogni due a scuola è bella io non so ma Vinitus questo è il menu a me mi piace ci sono fatto se noi adesso condizionatori incompressionali vai papà 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 mamma 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 ci sono panni ti caccia mamma non è fratello mi caccia mi caccia mi attrae anche anche il rosetta rosetta nomma vuol dire cos'è di sposi auguri sposi Siamo tutti parenti Parelli, cugini, cucini E poi sta proprio frate Gigi Ma ci facciamo Non guardo a frate La maggioranza vinci E cazzo è fatto Fox, Luigi Aniago Ultimo, Fox Ma io, un'ericina cosa Sta cosa non mi è piaciuta Neanche a me A Dari Fon A Dari Sindoni, che cosa? Che cosa? Dici per lì E' stato tutto bellissimo, buonissimo Buono Unica cosa che non è piaciuta E' sta cosa nel matrimonio La 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 Ma sicuro stai registrando Passi qua, non ci sono Passi qua Oh, dacci un segno Ah, no, sei il kid slam Aspetta, dacci un segno Sì, tu hai un Dacci un segno Ci senti? Siamo proprio di donna Ciao, sposi, auguri, un bacio Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Grazie a tutti per aver partecipato al nostro matrimonio vi ringraziamo è stato tutto bello grazie grazie alla prossima spero spero che siete tutti rimasti contenti noi ci abbiamo messo tutto tutto il nostro impegno spero che siete rimasti contenti grazie a tutti grazie a tutti un bacio vi vogliamo bene un bacio ciao grazie